C'è la pietra. Ti puoi sedere qua, sedi a terra, qua, fermi, qua sotto. E c'aveva il roto normale eh. Vedete come si andava, hai visto? Chi è dietro ci suona? Hai visto? Grazie. Visto l'omacello. Tu resisti tutto? Si resisti tutto? No, questa volta... Un lomacello un po'. Questo è un lomacello. Vai! Vai, buono! Buono! No, no, non andiamo da solo. Andiamo da solo. Eh? Quando è che non costa non... Va bene, così va bene. ... ... ... Grazie a tutti